A mia testa, cazzo. Oh, cazzo. Oh, merda. Es! Es! Cazzo, Es, cosa ti ha fatto? Mi ha colpito. Merda, gliela spacco quella cazzo di faccia. Dove siamo? No, Chris. Il tizio che ha ucciso Josh. Oddio, no! Oddio. Bastardo assassino! Sei un mostro! Cazzo, moriremo, Chris. Io non sono pronta a morire. Nessuno morirà. Vorrei poterti dire che non è giusto. Cosa? Dirmi cosa. È troppo tardi. Chris, a che serve? Smettila, dimmelo. Abbiamo continuato a girarci intorno. E ora, guarda, abbiamo sprecato tutto. Niente è andato sprecato. Cosa vuoi dire? Ogni secondo che ho passato al tuo fianco ha reso la mia vita degna di essere vissuta. Cosa vuoi dirmi, Chris? Mi spiace. Avrei dovuto dirtelo prima. Chris. Ashley, giuro, quando torneremo a casa. Oddio! No! Ashley, ti salvevo! Non ti lascerò a morire! Salute a voi, mie piccole cabbie speciali. Ho paura, Chris! Non aver paura. Oh, invece dovresti, Ashley. Perché ecco il colpo di scena. Chris ha già dovuto fare una scelta fatale oggi. E ora dovrà farne un'altra. Chris, puoi prendere l'arma davanti a te e sparare ad Ashley. Oppure puoi sparare a te stesso. Quello che rimane, resta io linda. La scelta è tutta tua. Non essere sciocco, Chris. Oh, mio Dio, no! No, Chris! Chris! Basta! No, Chris! No! Oh, mio Dio, no! Oh, mio Dio! No, basta! Chris! Oh, no! No, basta! Oh, mio Dio! No! Oh, mio Dio, no! No, Chris! Chris! Basta! No, Chris! No! No! Ti sei spinto troppo oltre. Non lo capisci? Eh? Non capisci che questa orgia di torture è durata anche troppo? Che cosa ti dà il diritto di giocare con le vite di queste persone? Cosa ti rende così speciale? Eh? 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 Che cosa hai fatto? Psicopatico? Psicopatico? Oh, che strano. Ehi! Ehi, dai, ragazzi! Ah! Ehi! Sam? Oddio! Chris, la scelta è tutta tua. Edda? Grazie a Dio! Ci serve aiuto! Presta! Ma che cazzo? Oh, family! Cazzo! 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 Tim! Sveglia. Sveglia. Mike, sei tu? Cosa? Cosa viene qui? Stop. Stop. No! Oh, accidenti, se erano stretti. Oh, Mike, grazie al cielo mi hai trovato. Ok. Tutto ok? Stai bene? Dove? Dove è Jessica? Non è... non è con te. Jessica è morta. Cosa? L'ha uccisa, Sam. C'è un pazzo su questa montagna e vuole ucciderci tutti. E giuro su Dio che quando saremo al sicuro andrò a cercare quel bastardo e lo farò a pezzi. Con le mie stesse mani. Oh! Ascolta, questo tizio di cui parli, lui mi ha assalito. Mi ha mostrato dei filmati. In uno si vedeva Josh che veniva ucciso. Veniva squartato da questa cazzo di enorme sega circolare. Gesù Cristo! Ma cosa cazzo sta succedendo qui? C'è una porta. Non si apre. Si apre dalla tua parte. Non si apre. Cazzo, sei orribile. Felice di vederti. Che stai facendo? Devo dire che l'asciugamano non è l'ideale quando si affrontano dei pazzi assassini. Ti dispiace, Mike? Oh! Eh... Giusto. Scusa. Ok, fatto. Finiamola qui. Così sia. Cos'è stato? Era un pianto? No! No, no, no! Vattene via! Oh, Chris! Oh, Chris, 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 Chris! Ma che cazzo? Avrai sentito parlare dei colpi a salve? Sul serio? Oddio! Oh, mio Dio! Matt! Matt! Oh, Gesù! Merda! Oh, merda! Cazzo! No! Merda! 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 Odio! Oddio! Tanti saluti a 600 dollari! Fantastico! Questo top mi stava benissimo! Bene! Adesso si ragiona! Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Oh, porca troia. Cazzo. No, 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 esquivo, esquivo, esquivo. Oh, Goddio. Oh, no. Oh, no, no, esquivo. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no, esquivo. What? Oh, no, no, esquivo. Oh, no, esquivo, esquivo. Oh, strano. Oh, strano. Molto strano. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.